ciao sono alessia di alessia scrap and craft e casa organizzata se non vuoi perdere neanche uno dei miei video ti ricorda di cliccare la campanellina qui sotto in modo appunto da ricevere le notifiche appena esce qualcosa di nuovo ce ne sono spesso ne sto facendo molti e quindi seguimi ciao ciao buongiorno a tutti oggi un video velocissimo sto per uscire ma ho visto che sul canale stiamo per raggiungere i 10 mila iscritti volevo ringraziarvi perché è un traguardo per me grande e volevo chiedervi se nei commenti mi scrivete cosa vorreste cosa vi piacerebbe che facessi per appena raggiungiamo i 10 mila iscritti purtroppo i giveaway non si possono fare però magari possiamo trovare delle idee alternative che non siano fuori legge perché purtroppo siamo in italia e questa cosa non si può non è ingestibile da i comuni mortali diciamo niente appunto volevo fare solo un ringraziamento a tutti a chi mi segue e chiedervi questo suggerimento per vedere di fare qualcosa di carino un video interessante oppure un'iniziativa interessante da da gestire insieme da da fare insieme a voi e perché sennò mi sembra sempre di parlare da sola mentre invece siete in tanti a seguirmi e quindi insomma vediamo di fare qualcosa di carino suggerito da voi adesso fra poco esco e vi lascio vi saluto e vi ringrazio ancora ciao